Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per lunedì 6 settembre. Il centro nord dell'Italia inizia ad essere lambito dall'anticircolone nordafricano. Un vortice di bassa pressione invece sull'Egeo seguita a richiamare venti più freschi sulle regioni adriatiche e meridionale. Il tempo previsto, rovesce temporali sparsi al pomeriggio sulle regioni meridionale, qualche rovescio qua e là anche sul Lazio, rilievi abruzzesi, molisani e sulla Sardegna. Massime intorno a 25-28 gradi al sud, sulle regioni del medio adriatico e triveneto, 29-32 su Lombardia, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Massime in questo periodo dell'anno, ricordo che dovrebbe essere dal punto di vista climatico, intorno a 28 gradi.